La città di Milano, per far fronte alle nuove esigenze sul tema sicurezza, si riorganizza nel nuovo piano stabilito in un vertice in prefettura. Tra il prefetto Renato Saccone, il questore Giuseppe Petronzi e i presidenti dei nove municipi di Milano, si è così decisa una nuova distribuzione dei commissariati di polizia. Ma che cosa cambierà? Ci saranno nove nuovi grandi distretti corrispondenti all'area geografica dei nove municipi. Ognuno avrà tra i propri confini una questura che diventerà il punto di riferimento su quel territorio e allo stesso tempo gli altri commissariati che sono attualmente 17 diventeranno delle strutture satellite. Secondo il questore Petronzi l'obiettivo è quello di razionalizzare le risorse ma anche una semplificazione per i cittadini e una maggior copertura sul territorio. Attualmente infatti ci sono commissariati che sono competenti su alcune zone che sono però appartenenti ad altri municipi e a volte può capitare che il commissariato sotto casa non sia quello di riferimento ma si debba andare in un presidio di polizia molto più lontano. Per i cittadini dunque d'ora in avanti sarà più facile capire qual è il commissariato di competenza più vicino alla propria residenza e usufruire più facilmente dei servizi dal cambio passaporto ad una denuncia. Dall'altro lato la costituzione dei nuovi nove distretti renderà più facile la comunicazione tra le varie figure competenti. Il presidente di municipio infatti avrà così un interlocutore di pubblica sicurezza che si occupa direttamente di quella parte di territorio potendo più facilmente affrontare le tematiche di sicurezza per singola fetta di territorio. Durante l'incontro inoltre si è evidenziato come da oltre un mese dopo la visita della ministra Luciana Lamorgese sono cresciute le unità operative su strada, 140 in più tra carabinieri e polizia impegnate soprattutto nei controlli durante il weekend e nelle zone della cosiddetta Malammovida.